Un consiglio veloce dal tuo psicologo. Se ti dico di non pensare ad una rosa rossa, a cosa stai pensando? È vero che adesso hai in mente solo questo fiore? Così ti ho dimostrato che se ti impegni attivamente a non pensare ad una determinata cosa, questo pensiero si fisserà nella tua mente e non ne uscirà tanto facilmente. Allora, cosa dovresti fare quando hai dei pensieri che ti disturbano? Sicuramente non cercare di reprimerli, ma collerli. Senza giudizio e senza paura. Solo così potrai trasformarli in azioni positive, chiedendoti per esempio cosa puoi fare per migliorare una situazione che ti preoccupa.